Benvenuti su ClaudioMasci.com Se avete aggiornato Windows 10 alle ultime versioni avrete notato che è stata aggiunta alla barra delle applicazioni una nuova funzionalità, cioè il meteo e andando sopra col mouse anche alcune notizie Se come me la prima cosa che avete pensato dopo averlo visto è ok, bello, come si disattiva andiamo a vedere insieme come rimuovere questa funzione dalla barra delle applicazioni Andiamo sulla barra, clicchiamo con il tasto destro andiamo alla voce notizie e interessi e clicchiamo su disattiva in questo modo lo possiamo rimuovere dalla barra delle applicazioni Chi invece non volesse rimuoverlo ma fosse interessato magari a personalizzarlo un po' è possibile cliccare su gestisci interessi e da qui possiamo andare a configurare quali sono i nostri interessi quindi magari avere notizie su un argomento in particolare le notizie locali di una città specifica quindi notizie di intrattenimento, lifestyle, sport, economia possiamo aggiungere anche degli interessi seguiti personalizzati quindi possiamo scrivere noi qualcosa e cercarlo e averlo tra le notizie poi possiamo aggiornare le notizie cliccando sul tasto aggiorna si aggiornano automaticamente ogni tanto ma se vogliamo avere proprio l'ultimo aggiornamento ci basterà cliccare su aggiorna feed e avremo l'aggiornamento in tempo reale nel mio caso come ho detto all'inizio la ritengo una funzione inutile almeno per me quindi la vado a disattivare come sempre se avete dubbi, domande o suggerimenti scrivetemelo nei commenti vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo al prossimo Ciao Ciao